E ora parliamo del decreto Balduzzi sulla sanità. Porta sostanziali novità soprattutto nella medicina territoriale con la riorganizzazione delle cure primarie secondo il decreto a vantaggio dei cittadini e in un migliore rapporto territorio-ospedale. Lo slogan per i medici di famiglia è 7 giorni su 7, 24 ore al giorno che vuol dire integrazione tra i professionisti e gli studi per favorire il coordinamento tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali secondo modelli individuati dalle regioni per decongestionare gli ospedali e far fronte anche alle esigenze di continuità assistenziale. Si rende essenziale l'utilizzo delle tecnologie come strumento irrinunciabile per l'aggregazione funzionale e per l'integrazione delle cure territoriali e ospedaliere. Ma per capire in concreto che cosa cambia per i medici e per i pazienti lucani abbiamo in studio Antonio Sant'Angelo che è il segretario regionale della FIMC, la Federazione dei Medici di Medicina Generale. Dunque che cosa cambia? Per il momento non cambia nulla perché il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri deve essere ratificato dal Parlamento dentro 60 giorni e costituisce soltanto la cornice entro cui andremo a discutere del prossimo accordo collettivo nazionale che andrà in vigore dal 1 gennaio 2015. Però come lo immaginiamo questo cambiamento? Immaginiamo come l'abbiamo già immaginato e scritto come FIMC Basilicata in un documento, in una proposta di riorganizzazione delle cure primarie in Basilicata presentata già due anni fa in Regione. Quindi il paziente che viene da lei che cosa trova? Troverà sempre il proprio medico di famiglia, sempre disponibile negli orari di ambulatorio che il medico decide in maniera autonoma, ma con la garanzia che potrà rapportarsi con un altro medico di famiglia nel caso in cui il proprio medico in quel momento è assente o impegnato in altre attività assistenziali. Questo per avere sempre il medico a disposizione, un medico di famiglia, anche se non sempre il proprio, e decongestionare gli ospedali perché questo è il problema. Sicuramente sì, perché oggigiorno noi assistiamo quotidianamente a una corsa all'ospedale, al pronto corso, per un problema che il più delle volte può essere risolto sul territorio. Però se non si potenzia il territorio, chiaramente il cittadino si rivolgerà sempre alla struttura che gli garantisce più tecnologia, più risposte, anche a volte con un aggravio di spesa per le casse regionali non indifferente. Ecco, un'ultima cosa dottore, noi abbiamo una geografia impossibile nella nostra regione, quindi magari c'è un medico per ogni paese, è importantissimo in questo la tecnologia, come brevemente? Ma chiaramente c'è già in corso di programmazione, di sviluppo, il collegamento in rete degli studi di medicina generale, il progetto Lumir, collegamento in rete non solo degli studi di medici, ma anche con le altre strutture sanitarie, l'ospedale, il distretto, i poliambulatori della ASL, i centri accreditati. Si tratterà di mettere insieme alla tecnologia adeguata che c'è attualmente sul mercato e poter garantire al cittadino le risposte migliori al tempo più opportuno e soprattutto presso i propri domicili. Allora, diciamo che i medici di famiglia sono moderatamente soddisfatti, lo sciopero annunciato non si farà più e ne riparleremo naturalmente. Grazie. 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 Grazie.